la rassegna stampa è stata offerta da i sapori del vallo l'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it Buongiorno e bentrovati, eccoci alla nostra rassegna stampa partiamo con il mattino in apertura stallo, colle, cresce, mattarella Salvini lancia Moratti, Nordio e Pera, Macella Casellati Letta, chiudiamoci in una stanza intanto aumentano i voti per il capo dello Stato primo nella seconda giornata delle schede bianche il retroscena, attenzione, Movimento 5 Stelle Conte così ci porta dritto alle elezioni il Movimento 5 Stelle non si fida di Conte gioca su troppi tavoli così ci porta alle elezioni nei grillini crescono i dubbi sul lavoro di avvicinamento al blocco di centrodestra il veto sul premier e la manovra per Frattini preoccupano i Dem, Letta, fiducia in Conte di lato sud meglio del nord la corsa dei consumi, Campania davanti a tutti andiamo su centro pagina Diego Costa c'è il colpo Granata salernitana scatenata sul mercato Sidi Verdi sprint per Caio Iorghe sempre su centro pagina Giallo a Salerno due corpi sul viadotto un morto e un ferito perde la vita un bancario ipotesi suicidio grave l'altro uomo si pensa ad un incidente di taglio basso la minaccia russa-ucraina dialogo Macron-Putin l'Italia chiede più gas a Mosca questa era la prima pagina del mattino andiamo a vedere in primo piano lo scenario i leader ora accelerano il nome in settimana Salvini e Letta si augurano di chiudere entro la settimana torna l'incubo del 92 i timori per il quadro internazionale la crisi in Ucraina ci spinge a velocizzare la corsa di tutti i leader nella ruota dei criceti continuerà ancora oggi così come la caccia ad una strategia che non c'è se non quella della riduzione del danno che potrebbe provocare l'elezione a maggioranza del nuovo capo dello Stato tra veti terne che sfioriscono prima di essere annunciate carte coperte o quasi si va a caccia di quei punti fermi che potrebbero portare ad una svolta il più importante riguarda i tempi Enrico Letta e Matteo Salvini hanno detto ieri in occasioni diverse che sperano di chiudere in settimana anche perché l'Italia non ha tempo da perdere ricorda Giuseppe Conte lasciamo questa pagina rimaniamo sul mattino i trend dell'economia sud scatto dei consumi boom a Napoli e Caserta il report di Confimpresa Ernest Young campagna prima nel recupero sul 2020 buona anche la tenuta rispetto al 2019 per ristorazione abbigliamento e no food si dice che il tasso di crescita di un territorio si misuri soprattutto con il consumo di energia elettrica se è così si può negare che la ripresa non si può negare che la ripresa nel 2021 abbia toccato il mezzogiorno i dati diffusi da Terna indicano infatti un trend positivo nazionale del 5,6% per il 2021 sostanzialmente vicino ai valori del 2019 una variazione tra sud e isole del più 5,9 contro il più 5,2 al nord e il più 6,4 al centro un segnale importante che si aggiunge a quelli diffusi sull'aumento dei consumi in generale nel meridione dal mercato dei beni durevoli monitorato da Fin Domestic che registra recuperi importanti soprattutto sul mercato della casa a quello del food no food abbigliamento accessori misurato mensilmente da ConfImprese in particolare per quest'ultimo il recupero del 2021 sull'anno precedente ha registrato performance significative e la campagna è in testa nella classifica delle regioni davanti alla Lombardia e cambiamo argomento le imprese italiane in videocall chiedono al Cremlino più gas al vertice di oggi parteciperà anche Putin saranno presenti Enel e le grandi banche sul tavolo oppure la sicurezza delle forniture per Mosca Roma interlocutore privilegiato vertice tra il presidente russo Vladimir Putin e le principali imprese italiane sullo sfondo la crisi in Ucraina che corre le tensioni sul gas che crescono l'incontro in programma da novembre si svolgerà oggi in videoconferenza e coinvolgerà una delegazione di imprenditori e manager italiani di spicco come Francesco Starace CEO di Enel Andrea Orcel CEO di Unicredit Antonio Fallico presidente di Intesa San Paolo Russia non parteciperanno invece Claudio Descalzi amministratore delegato dell'Eni e Marco Alberà numero uno di Snam promosso organizzato dalla Camera di Commercio Italo-Russo in collaborazione con il comitato imprenditoriale Italo-Russo preseduto dal vicepresidente e AD di Pirelli Marco Tronchetti Provera e da Dimitri Konov CEO del colosso petrolchimico russo Sibur il confronto si focalizzerà sulla crisi energetica ma non solo e con questo lasciamo il mattino ci spostiamo sulla città in apertura si parla di covid attacca i più piccoli infetta una bambina di 10 mesi paura dopo il ricovero in ospedale muore giovane cilentano si aggrava Don Franco Fedullo le presidenziali corsa al Quirinale giovine anima di C sceglierei Casini la politica in lutto lacrime biparti San Perenzo Fasano un grande uomo di lato tragedia al porto bancario si toglie la vita lanciandosi nel vuoto anno c'era inferiore movida violenta quattro denunce per la rissa al bar sala consiglina smantellata la mafia lucana preso balsamo e poi lo sport la salernitana ha il bomber e Diego Costa le altre trattative Caio Iorghe dalla Juve Verdi si avvicina la ripresa oggi tutti in campo sepe è già pronto di taglio basso a Salerno Bennett a caccia dei predoni furti tra i rifiuti il capo della pulita partecipa ai controlli dopo le sortite nei quartieri all'alba con gli addetti allo spazzamento ieri notte l'amministratore unico di Salerno pulita Vincenzo Bennett era in strada per coordinare l'operazione di contrasto agli incivili e insieme ai responsabili dei vari servizi ha coordinato gli spostamenti della polizia municipale che a sua volta era in contatto con la polizia di stato e poi a battipaglia tabacchificio come garage per gli operai dell'alba questa era la città diamo uno sguardo al quotidiano del sud in apertura la cittadella del degrado non funziona nulla fatiscenza edilizia blackout degli impianti il presidente della corte d'appello sui gravi limiti della struttura crollano soffitti infiltrazioni d'acqua ascensori fermi condizionatori K.O. Centropagina Diego Costa alla Salernitana oggi si decide sul colpo granata trattativa alle battute finali di lato il coronavirus uccide Giovanni a soli 34 anni poi riscoppia il caso carceri SOS da Forni angoscia in città doppia tragedia della solitudine sul viadotto Gatto a Salerno San Severino sul palazzetto nuovi attacchi di Romano replica ferma blitz da potenza mafia lucana nel Vallo di Diano 15 arresti questa era la prima pagina del quotidiano del sud andiamo a vedere in primo piano covid e regioni che cosa chiedono le regioni a scuola regole da cambiare fedrila in dad tenere solo i positivi sintomatici guardare al futuro e procedere rapidamente verso una normalizzazione della situazione che consenta una ripresa più ordinata e rilancio del nostro paese questi gli obiettivi che ci siamo posti oggi che sono la base di una posizione che i presidenti delle regioni hanno condiviso in modo unanime andiamo avanti rimaniamo sul quotidiano del sud la cronaca a Lampedusa un'altra strage di migranti sette morti per ipotermia soccorso un barcone con 280 persone e poi la crisi in Ucraina sempre su questa pagina gli Stati Uniti allertano 8500 soldati tensione alle stelle con Mosca la von der Leyen dice pronti a tutto andiamo avanti diamo un'occhiata alla prima pagina di cronache il titolo di apertura passionaria della toga contro il Green Pass l'intervista a Olga Milanese l'avvocato Salernitano presenta un esposto alla Corte Penale Internazionale tanti clienti chiedono tutela contro il vaccino sotto la testata allo sport Diego Costa ha detto sì dalla Juve Caio Yorghe Verdi ha dato la disponibilità Sabatini chiude entro venerdì spostiamoci su centropagina Salerno si è fermata per l'omaggio a Enzo Fasano Gasparri con lui condivisa ogni scelta il presidente De Luca grandi rapporti umani Duomo affollato ieri per l'ultimo saluto al deputato salernitano e Rossella Sessa alla Camera dice seguirò le indicazioni del mio partito di Taglio Basso Nocera Caso Villa dei Fiori Lucia Volodo si è fermo dal 2017 uno scandalo poi Città Abbandonata Angelo Orientale quale assessore ha competenze per la gestione dei beni storici di lato la fabbrica rispo gli operai senza stipendi urgente un tavolo di confronto a Eboli al boss pentito Cosimo Rago niente sconto dalla Cassazione E termina qui la prima parte della nostra rassegna stampa ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità E eccoci tornati in studio riprendiamo la rassegna stampa con la prima pagina del mattino di Salerno in apertura la cronaca morte e giallo sul viadotto due corpi ritrovati a breve distanza un bancario suicida un ferito grave senza nome il 58enne di Vietri si è lanciato nel vuoto l'altro uomo sarebbe scivolato nel dirupo il caso Agropoli giovane politico denunciato body shaming ai ragazzi di lato la politica Dio Affasano Maggio Corale si ferma il voto per il Quirinale Centropagina Costa Calverdi Trisdassi per i Granata Sabatini scatenato mentre la Rechi è pronto a ruggire sempre sul centropagina la pandemia covid i contagi risalgono e allarme per i bambini ricoverata piccola di 10 mesi focolaio in un nido nell'agro malato e senza dosi muore a 34 anni la prevenzione centri vaccinali nelle scuole si candidano 5 superiori di lato i servizi acqua e disagi il terzo guasto in tre giorni a Salerno rete a pezzi l'ambiente ladri di rifiuti blitz nella notte denunciati 5 stranieri questa era la prima pagina andiamo a Battipaglia ordine di sgombero per Palazzo De Santis incuria e degrado dallo stabile in pieno centro liquami putri fino in strada francese via gli occupanti proprietari ripristinino l'igiene sempre a Battipaglia canna fumaria sporca casa in fiamme a Ponte Cagnano Faiano servizi cimiteriali parte la gara d'appalto ad Agropoli messaggi shock politico denunciato per body shaming giovane politico accusato di body shaming a segnalare taluni episodi che li hanno visti protagonisti sono dei ragazzi agropolesi destinatari attraverso Instagram di messaggi offensivi relativi al loro aspetto fisico fisicamente parlando sei qualcosa di mostruoso se metti un po' di chili diventi una bella ragazza così veramente sei orribile se io ero con te se io ero come te mi facevo schifo questi sono alcuni dei messaggi inviati in chat private che hanno turbato i destinatari non è chiaro se gli insulti siano arrivati a margine di una lite uno scambio di accuse o meno fatto sta che simili espressioni sono comunque da censurare i ragazzi agropolesi si dicono offesi e turbati per le critiche ricevute per il loro aspetto fisico e non vogliono che tutto ciò passi inosservato anche per evitare che certi comportamenti vengano replicati con altri giovani incapaci di difendersi e di reagire alle accuse andiamo avanti ad Ascea due frazioni senza medico raccolta firme denuncia del Movimento 5 Stelle eboli stazione elettrica delibera all'unanimità prima la salute altrimenti ristori congrui la cronaca da Montesano sulla Marcellana carbonizzato a 65 anni l'ipotesi un incidente si ipotizza sempre più l'incidente domestico per la morte di Felice Lauria il 65enne trovato cadavere lunedì sera in un ex capannone industriale a Montesano sulla Marcellana le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina continuano e non tralasciano alcune altre piste ieri sono stati effettuati ulteriori rilievi e si procederà all'esame autoptico sulla Salma per capire le cause del decesso lasciamo il mattino ci spostiamo sul quotidiano del sud anche qui la cronaca mafia lucana nel Vallo di Diano presi 15 esponenti dei clan colpo alla cosca dei riviezi di potenza in manette anche il valdianese balsamo doppia operazione quella di ieri nasce da un filone su una società che gestiva il bar del palazzo di giustizia potentino ad ascea pezzi di territorio senza medico di base ma anche il medico di famiglia per le frazioni di mandia e catona arriva un'interrogazione in consiglio regionale da parte di Michele Cammarano e Valeria Ciarambino del Movimento 5 Stelle a sollecitare l'intervento dei consiglieri pentastellati Alessandro Rovezzi da anni impegnato nella valorizzazione e promozione di mandia dai comuni l'associazione resta ballo di diano chiede un aggiornamento sul registro tumori all'asl salerno anche anche qui la tragedia di Montesano non dava notizie da giorni trovato carbonizzato lasciamo il quotidiano del sud andiamo su cronache nocere inferiore guerriglia al bar ai cicalesi identificati e denunciati dieci giovani l'intento era quello di risolvere una questione di gelosia botte da orbi in via d'Alessandro domenica sera due gruppi provenienti da San Marzano sul Sarno alle 22 e 40 iniziata la scazzottata uno dei ragazzi aveva un bastone di legno i carabinieri risalgono ad alcuni degli autori del pestaggio avvenuto poi venerdì in via Garibaldi sempre a nocera inferiore aggressioni e bastonate picchiatori nei guai andiamo avanti sempre su cronache ad eboli nessuno sconto al boss pentito della nuova famiglia Cosimo Rago confermata l'ordinanza della corte d'appello di Salerno che aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione per una serie di reati di mafia la Cassazione rigetta il ricorso a uno degli uomini di punta del clan maiale e autore di omicidi di Cutoliani Tommaso Pellegrino parco approvati e finanziati progetti per oltre 5 milioni di euro avranno inizio a breve gli interventi previsti per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici del territorio di taglio basso a Eboli Terna riveda la localizzazione del progetto la delibera approvata all'unanimità in consiglio comunale e termina qui la nostra rassegna stampa grazie per essere stati con noi vi auguro un buon proseguimento di giornata grazie a tutti